Questi luoghi che stiamo percorrendo sono già finiti alla ribalta della cronaca nazionale per ben 5 persone scomparse. Siamo esattamente sui tornanti di Montemaggiore. Qui, tra il 98 e il 2002, tra i comuni di Liberi, Castel di Sasso, Ponte Latone e Formicola, sono scomparse misteriosamente tutte queste persone. Maria Cirillo, Raffaele Izzo, Vincenzo Santillo, Giacinto Maioriello e Antonio Isolda, i cui corpi non sono mai stati ritrovati. Solo quello di Maria Cirillo, 86 anni, di Liberi, veniva trovata a Brantelli, proprio qui, in questi boschi, dopo qualche mese e non molto lontano dalla sua casa. Si parlò anche di messe nere, così come la Procura della Repubblica scrive negli atti, ma solo uno di loro, Antonio Isolda invece, secondo un esposto anonimo inviato ai carabinieri di Capua, sarebbe stato ucciso da Armando Isolda, il cugino, e il suo corpo si troverebbe in uno dei pozzi di proprietà del presunto omicida. Questo anonimo, dopo oltre 20 anni, fa riaprire le indagini, scattano approfondite verifiche nei pozzi e vengono effettuati numerosi scavi, ma è tutto inutile. Del corpo di Antonio nessuna traccia, tanto che il 13 settembre scorso il suo caso viene archiviato per manganza di indizi. Intanto Armando Isolda, nel giugno scorso, anche per l'incubo che stava vivendo, muore a 89 anni. Ma noi abbiamo sentito il figlio di Armando Isolda. Allora, da qualche giorno la Procura della Repubblica di Santa Maria Capovetere ha archiviato la posizione di suo padre. Qual è stata la sua prima impressione? La mia prima impressione, unitamente a quella della mia famiglia, naturalmente è stata quella che dopo mesi e mesi finalmente è arrivata questa notizia che aspettavamo, in quanto noi siamo stati sempre fiduciosi nel lavoro della magistratura e eravamo totalmente tranquilli che questa archiviazione fosse arrivata perché non c'era assolutamente motivo di dubitarne. Quindi siamo lieti che questo sia avvenuto, anche se un po' rammaricati che è avvenuta con un po' di ritardo, visto che purtroppo il papà è passato a miglior vita e non ha potuto avere questa soddisfazione. Di cosa era accusato esattamente suo padre? Ma mio padre era accusato, secondo l'articolo 411, ovvero occultamento di cadavere. Come da segnalazione è avvenuta anonimamente attraverso una missiva inviata ai carabinieri di Capua e alla procura di Santa Maria Capovetere. Come è stato possibile, visto che suo padre in quel periodo della scombarsa di Antonio Isolda si trovava in Svizzera e soprattutto come poi avete potuto giustificare questo? Sì, questa è una cosa che ci siamo sempre domandati pure noi, io e mio fratello, tutta la famiglia. Nelle varie deposizioni che abbiamo avuto, i colloqui che abbiamo avuto con i carabinieri, nelle famose ADR a domande rispondi, noi abbiamo sempre ribadito che in quel periodo mio padre si trovasse in Svizzera, in quanto io stavo naturalmente stabilmente residente in Svizzera e lui ogni anno veniva nel mese di novembre per una ricorrenza che si tiene in questa città di Berna, che è la festa delle cipolle, che avviene il quarto lunedì di novembre. Quindi il quarto lunedì di novembre in quella occasione era il 25 novembre e quindi mio padre assolutamente non si trovava in Italia. Questo naturalmente poi è stato documentato dalla Polizia di Frontiera di Domodossola con un certificato che hanno inviato ed è l'allegato nove del fascicolo di cui poi siamo venuti in possesso giorni fa e dove si evince che mio padre in data 2 dicembre, quindi tre giorni dopo i fatti accaduti, rientrava dalla Svizzera in Italia. Quindi questa è la prova inconfutabile che mio padre in quell'occasione non fosse in Italia ma che si trovava in Svizzera per questa ricorrenza. Che cosa vuole dire invece a chi è infangato l'immagine della sua famiglia, di suo padre e soprattutto a chi è stato poi vicino a voi in questo periodo drammatico saremo dire in qualche modo? Ma vorrei dire a questa persona che ha avuto questo coraggio di menzognare in un certo modo o voler tentare di infangare la memoria e in questo caso la memoria ma comunque all'epoca il nome della nostra famiglia e di mio padre vorrei dirgli che se questo era l'intento sappia che questo intento non è riuscito, non gli è andata bene, fortunatamente per noi. Invece vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato, che ci sono state vicine, soprattutto i parenti della vittima e che hanno sempre creduto nell'innocenza di mio padre e vorrei anche se mi consente di ringraziare il nostro avvocato che devo dire con grande professionalità e pagatezza ha seguito l'indagine, ha seguito il lavoro e di questo gli sono veramente grato e siamo arrivati a questa felice conclusione. Da Liberi è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it